Natale sicuro è l'operazione messa in gambo dalla postata di Lagusa che incrementerà i controlli in occasione del fonte delle festività natalizie. Fattuglia H24 lungo le arterie più trafficate del territorio Ibleo, automobilisti, occhio alle multe. È stato rinviato al 4 febbraio lo sfratto di una famiglia che vive in una villa vicino Santieri. Questa mattina è stato deciso il rinvio dopo una lunga trattativa con l'ufficiale giudiziario. Al fianco del proprietario il movimento dei Forconi. È una vera e propria emergenza Vittoria, interi quartieri costantemente senza acqua, il problema della carenza idrica non si è risolto. La denuncia arriva dal consigliere comunale Nicastro che ha raccolto le lamente le segnalate dei cittadini. Disoccupazione e povertà in aumento sono i dati sconfortanti diffusi dalla CGL di Lagusa nel corso del direttivo provinciale che è servito anche per approvare il bilancio di previsione 2017, tracciato anche il confuntivo del 2016. Buonasera a tutti gli spettatori di MTG e bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione sul video mediterraneo. Dunque in vista delle festività natalizie aumenta l'attività di controllo degli uomini della polstrada di Ragusa. In particolare le pattuglie saranno presenti sulle principali arterie provinciali per elevare eventuali violazioni al codice della strada. MTG consigli del comandante Gaetano Di Mauro. A tutti gli automobilisti che si pongono alla guida in questi giorni in cui c'è un notevole incremento del traffico veicolare. Ce ne parla Carmela Minardo. È uno dei periodi più trafficati dell'anno e tra l'altro dal punto di vista statistico è uno che fa registrare un maggior numero di incidenti. Per cui sono previsti dei servizi al fine di contrastare alcune condotte più a rischio. Il comandante provinciale della polstrada Gaetano Di Mauro evidenzia l'aumento del traffico veicolare in questo periodo di festività. Per evitare condotte alla guida che possano determinare incidenti, le pattuglie della stradale vigileranno su tutte le tratte extraurbane, ponendo in essere una costante attività di prevenzione e controllo sulle principali direttrici dove si concentra maggiormente il traffico veicolare, ossia nelle vie di comunicazione che costituiscono le porte di accesso alla provincia eblea. Attività di prevenzione attraverso la presenza visibile e costante degli equipaggi e controlli sulla velocità, sulle condizioni psicofisiche dei conducenti. L'eccesso di velocità, la guida senza cinture. Vorrei ricordare a tal proposito di tutelare i nostri bambini e di assicurarli anche loro con dei sistemi di ritenuta perché registriamo spesso gli incidenti che i bambini si fanno male e poi la guida è stato di ebrezza. Vorrei ancora soggiungere di prestare particolare attenzione all'uso del telefonino che è legittimo soltanto se utilizzato con auricolare. In questo periodo, stando alla segnaletica verticale delle strade Ible e strade statali, vi è l'obbligo delle catene nel momento in cui si presenti della neve, quindi vi sia del ghiaccio, così come previsto sulle strade statali alla 115, 514 e 194. Con l'occasione, il dirigente della Polstrada, Gaetano Di Mauro, raccomanda a tutti gli utenti della strada di prestare la massima attenzione nel momento in cui si pongono alla guida. Telle laser è lo strumento che ho utilizzato ormai da tempo, che ricordo è un accertamento di tipo diretto che consente la contestazione immediata. Poi ovviamente gli etilometri per quanto riguarda l'uso di alcol, che sicuramente in questo periodo si rischia di eccedere nell'uso proprio perché per le feste di solito si aumenta l'uso. In questo caso noi diciamo sempre che chi vuole bere beva, però non si mette alla guida. È stato ucciso da un agente in prova di Siracusa, l'attentatore di Berlino, Anis Amri, arrivato nel corto della notte in Italia, a Milano. Un altro poliziotto è rimasto ferito ad una spalla, entrambi sono già considerati degli eroi che sono riusciti a fermare la violenza del terrorista che avrebbe potuto organizzare altri attentati. La polizia italiana ha fatto giustizia ad una morte ingiusta, quella della nostra connazionale uccisa al mercatino di Berlino, Fabrizia Di Lorenzo. Tutti i dettagli in questo servizio. È stato ucciso il killer dell'attentato ai mercatini di Natale di Berlino da un poliziotto di Siracusa, di 29 anni, Luca Scatà, in una sparatoria a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. L'agente era in prova al locale commissariato. Nel volgere di poche ore la sua vita è cambiata. In un posto di controllo, intorno alle tre, ha fermato Anis Amri, il tunisino di 24 anni. Lui ha ferito un poliziotto, il 36enne Christian Movio, estraendo una pistola calibro 22 dallo zaino alla richiesta dei documenti. Il poliziotto siracusano di Canicattini ha risposto a fuoco e lo ha ucciso. Il tunisino ha prima gridato alla Akbar. L'agente è ferito, subirà un intervento alla spalla, ma comunque le sue condizioni per fortuna sono buone. Il riconoscimento del cadavere è avvenuto grazie ai dati della misura del volto e al successivo rilievo delle impronte digitali. In tasca aveva alcuni biglietti delle ferrovie francesi che hanno consentito di ricostruire il tragitto che aveva compiuto. Il terrorista in treno aveva viaggiato da Cembri in Savoia fino a Torino. Da lì aveva raggiunto la stazione centrale di Milano dove è arrivato a luna di notte. Infine dalla stazione centrale si è spostato a Sesto dove intorno alle tre di notte ha incrociato gli agenti in pattuglia del commissariato locale. Questi due ragazzi straordinari, facendo semplicemente loro dovere, hanno reso un servizio straordinario alla comunità, ha detto il ministro dell'interno Marco Minniti. In queste ultime ore sono stati tanti gli attestati di apprezzamento sul profilo Facebook di Lucas Catà, che però da qualche ora è oscurato. Come è emerso nei giorni scorsi, Amri, il tunisino di 24 anni, ha trascorso 5 anni in Sicilia dopo essere sbarcato nel 2011 a Lampedusa, presentandosi come un minore non accompagnato. 4 anni era rimasto recluso in carcere tra Catania e Palermo, era stato condannato per disordini nel centro di accoglienza dove era stato ospitato. Niente stupefacenti, solo due grinder sono stati trovati da Ivan, un labrador delle unità cinofile di Nicolosi, che ieri ha ispezionato le aule degli studenti e i motorini, il loro possesso in un istituto professionale di Ragusa. Il ritrovamento dei grinder conferma la diffusione dello stupefacente del tipo marihuana tra i giovanissimi carabinieri hanno poi incontrato gli studenti illustrando loro i rischi per la salute e la dipendenza che l'assunzione di droghe può comportare oltre alle conseguenze amministrative penali a cui incorrerebbero assuntori e spacciatori. I lavoratori del Consorzio di Ragusa, 8 di Ragusa, minacciano di interrompere l'erogazione dell'acqua a causa degli stipendi arretrati. Per scongiurare questa ipotesi è stato convocato un vertice in prefettura. La regione del Canto Su ha liquidato circa 5 milioni di euro, tutta la somma del 2016. Facciamo il punto in questo servizio. La storia è infinita del Consorzio di Bonifica di Ragusa. I dipendenti da sei mesi non percepiscono lo stipendio, minacciano l'interruzione dell'erogazione idrica in provincia. La regione ha erogato tutti i fondi per l'anno 2016, ma i dipendenti del Consorzio hanno percepito solo la mensilità di luglio e la 14esima mensilità. La prefetta Maria Carmela Librizi, che è stata attenta e sempre disponibile al confronto con il Consorzio, questa mattina ha ricevuto una delegazione di sindacalisti e lavoratori. L'obiettivo della prefettura è trovare una mediazione con i lavoratori per scongiurare il loro piano di protesta per evitare di arrecare disagio o danni alla popolazione eblea. La situazione è obiettivamente complessa, è molto difficile. Quindi stiamo perseguendo delle vie per trovare un minimo di soluzione, anche se ancora sono in via di definizione. Chiaramente come prefetto non posso consentire che possa essere interrotta l'erogazione di acqua, soprattutto l'acqua potabile a modica, quindi indubbiamente sarà oggetto di confronto questa situazione per far sì che i lavoratori possano in qualche modo evitare che andare incontro a agitazioni molto complesse come quelle che vogliono porre in essere. Quindi mi adopererò perché questo non si possa verificare. L'assessore regionale all'agricoltura, Antonello Cracolici, ha stanziato gli ultimi e tutti i fondi destinati al consorzio per l'anno 2016, esattamente 4 milioni e 955 mila euro, ma il direttore del consorzio, Giovanni Cosentini, ha pagato solo la mensilità di luglio e la quattordicesima. Quella del consorzio di Ragusa è una situazione difficile da gestire, considerando i debiti pregressi e i pignoramenti. Per saldare tutti gli stipendi arretrati, Cosentini ha fatto sapere che la Regione dovrebbe erogare 7 milioni di euro. Il consorzio ha molte cause di lavoro tutte perse, ricorse e contenziosi vinti da chi era stato licenziato. La buona notizia da parte dell'assessore datore regionale è che è stato superato l'articolo 47, che imponeva una riduzione nell'erogazione dei fondi per i consorzi. Invece, l'assessore Cracolici ha fatto sapere che erogherà fino al 2019 la stessa somma di quest'anno, quasi 5 milioni di euro. Altri 5 milioni saranno destinati ai consorzi per sopperire alla sospensione delle bollette in carico agli agricoltori stabilita dalla Regione per gli anni 2014 e 2015. E intanto la protesta dei lavoratori del consorzio di bonifica è stata sospesa in occasione delle festività natalizie, ma i lavoratori riprenderanno l'assemblea martedì prossimo. A darne notizia sono le segreterie territoriali di Fai, Cisle, Flai, CGL e Filb, Will al termine della riunione che si è tenuta oggi pomeriggio. I lavoratori del consorzio di bonifica 8 Ragusa ringraziano tutti coloro i quali, a qualsiasi titolo, hanno manifestato solidarietà e disponibilità a supportare la vertenza. Ed è stato rinviato al prossimo 4 febbraio lo sfratto di una famiglia che vive in una villa incontrata a Papazza, in territorio di Scicli, vicino San Pieri. L'immobile è stato valutato a 980 mila euro, ma giudicato all'asta da uno sciclitano per 260 mila euro. Il proprietario originario ha chiarito al giudice che sarebbe uscito, ma aveva chiesto di posticipare la data dello sfratto per permettergli di effettuare lavori di manutenzione nella nuova casa dove devono andare ad abitare. Il Tribunale non ha accolto l'istanza, il Movimento dei Forconi con il leader Mariano Ferro è stato a fianco alla famiglia denunciando che la magistratura conferma l'atteggiamento punitivo nei confronti di chi è in difficoltà. Intanto questa mattina si è presentato l'ufficiale giudiziario con il quale dopo una lunga trattativa è stato deciso il rinvio. La moglie dell'ex proprietario della villa, una settantenne, tra l'altro è in precarie condizioni di salute. Pertanto il marito aveva chiesto al Tribunale di lasciare l'abitazione a fine gennaio. Tutto rinviato dunque a 4 febbraio. La capogruppo del PD al Consiglio Comunale di Modica e Vanna Castello interviene sull'impossibilità di contattare la protezione civile, una situazione allarmante che va avanti da oltre un anno e che sembra essere caduta nel dimenticatoio. Tagliata la linea telefonica al Comune di Modica delle utenze di protezione civile, una situazione preoccupante, in quanto il numero è il legame tra il cittadino e il personale. Dunque, in caso di emergenze e calamità, sembrerebbe davvero difficile poter chiedere soccorso. Quanto in questo momento sta accadendo in città è stato denunciato dalla capogruppo del PD, Ivanna Castello. Quest'ultima, con carta alla mano, Bacchetta e il sindaco di Modica, Ignazio Abate e Reo, a suo dire, di non aver operato celermente per la risoluzione del problema che attanaia il quarto settore del Comune di Modica da oltre un anno. Le linee telefoniche, infatti, sono state tagliate sia in entrata che in uscita, sottolinea la Castello, nel mese di maggio del 2015. Da allora si sono sosseguite diverse comunicazioni all'ufficio del sindaco, da parte del quarto settore, per chiedere la riattivazione urgente della linea telefonica. Il fatto che il Comune di Modica non abbia pagato le compagnie telefoniche ha dunque portato al taglio dell'erogazione di questo servizio che tuttavia è fondamentale e necessario. La Castello accuse inoltre il sindaco di non aver adempiuto agli opportuni provvedimenti come ad esempio segnalare alla compagnia che le utenze dismesse in realtà sono utilizzate dagli uffici di protezione civile e per legge, anche se non si provvede al pagamento, essendo di pubblica utilità e a sostegno delle uncolumità, non possono essere tagliate, evidenzia la capogruppo del Partito Democratico, Ivana Castello. Abbacchettare l'atteggiamento superficiale in riferimento alla vicenda è la prefetta Librizi che, in una nota, ha chiesto di essere aggiornata sul caso. La Castello non usa mezzi termini e conclude la nota dicendo abbiamo sostituito gli alberi in via Quasimodo e non abbiamo i soldi per metterci in regola con la telefonia d'emergenza. La Giunta Comunale di Modica ha approvato il bilancio di previsione 2016 pluriennale 2017-2018 completando l'iter lungo e travagliato dell'approvazione degli addempimenti di bilancio compresa la rimodulazione del piano di riequilibrio. Adesso il percorso passa nelle mani dei revisori dei conti e successivamente in Consiglio Comunale per l'approvazione. Intanto, mercoledì prossimo alle 18 andrà in Aula il piano di riequilibrio per la ratifica dopo che la Giunta l'aveva approvato già a fine settembre. Le gravi criticità strutturali che hanno coinvolto il convento del Santuario Maria Santissima di Valverde a seguito degli ultimi eventi atmosferici hanno spinto il Sindaco del Paese a chiedere un intervento urgente alla protezione civile regionale per evidenziare lo stato dell'arte e i prossimi interventi di recupero che l'amministrazione comunale di concerto con gli enti competenti intende promuovere. Alle nostre spalle il Santuario Maria Santissima di Valverde. Siamo infatti nella piazza principale di Valverde e potete vedere i danni del maltempo causati proprio in questo bellissimo santuario che rappresenta l'identità di questa intera comunità. Per questo il Sindaco di Valverde, Rosario D'Agata, ha chiesto alla protezione civile di intervenire urgentemente sia per una questione appunto di identità culturale, storica e religiosa, ma soprattutto per una questione di sicurezza. Come mostrano le immagini, infatti si sono creati degli avvallamenti, la situazione è pericolosa, infatti è stata recintata, ma ci spiegava il Sindaco, così come ci spiegavano gli esperti della protezione civile, questa ringhiera che è stata messa a protezione dovrà essere allargata, proprio perché si teme un non cedimento del terreno. E allora chiediamo appunto al Sindaco come intervenire e soprattutto quale sarà il ruolo della protezione civile. Abbiamo avuto la disponibilità piena anche partecipata del capo della protezione civile, l'ingegner Foti, che ringrazio, che ha compreso l'importanza dell'evento, la gravità di una situazione che non investe soltanto la struttura del convento, ma se volete anche la portata identitaria della mia comunità. Ho chiesto in maniera anche insistente una partecipazione da parte della protezione civile e l'ho ottenuta. è stata molto fruttuosa, dicevo, perché come prima cosa l'ingegnere giustamente sostiene che dobbiamo agire sulle cause. La protezione civile nella persona dell'ingegnere Foti si è resa disponibilissima a coordinare e a finanziare degli interventi di carotaggio e di monitoraggio per quanto riguarda la situazione geologica dell'area, che molto probabilmente è alla base del cedimento che possiamo vedere. Dopodiché, insieme agli enti preposti, perché lo ribadisco, il convento non è di proprietà del comune, ma sicuramente il comune ha molto interesse a che una struttura del tipo che rappresenta, lo voglio ribadire con forza, l'identità della mia gente. Andiamo a Vittoria dove non si risolve il problema della carenza idrica. Interi quartieri rimangono costantemente senza acqua. Denunciare la problematica è il consigliere comunale Giuseppe Nicastro che ha raccolto le lamentele e le segnalazioni dei cittadini. Siamo senza acqua, qualcuno aggiunge siamo alle solite. La carenza idrica in alcuni quartieri di Vittoria ormai è diventata una costante. A distanza di qualche giorno dalle ultime segnalazioni, i residenti di via Berrutti e angolo via Torino, zona Forcone, tornano a denunciare i disagi. L'hanno fatto anche tramite un video denuncia, ma ancora i problemi persistono. A farsi carico delle lamentele dei residenti il consigliere del gruppo misto Giuseppe Nicastro ed è proprio Nicastro ad incalzare l'amministrazione comunale. Noi chiediamo all'amministrazione comunale per quale motivo la carenza d'acqua, quali sono le cause, se c'è guasto e soprattutto durante le festività natalizie come intende risolvere tale problematica l'amministrazione comunale che è importante. Non solo durante le festività natalizie, ma soprattutto durante i giorni feriali e festivi, durante la vita quotidiana. Le autobotti messe a disposizione dal comune sono insufficienti per risolvere il problema. Abbiamo sollecitato, ho sollecitato gli organi competenti e abbiamo risolto il problema con l'ausilio dell'autobot anche se le autobotte per la città di Vittoria sono un numero molto irrisorio quindi non ce la fanno soddisfare le esigenze dei cittadini. Il problema non è l'autobot, il problema è capire qual è e dove sta la causa della mancanza d'acqua nelle case dei vittoriesi e dei cittadini che pagano il canone puntualmente. Bilancio di previsione 2017 approvato all'unanimità ieri dal direttivo provinciale della CGL nel corso del quale è stata anche attenzionata la formazione dei quadri. Sul piano politico sindacale poi il segretario generale Pippo Scifo ha detto che si chiude un anno non senza difficoltà. Un anno non facile per le numerose vertenze rimaste ancora aperte per i nodi sociali che si stringono sempre di più attorno ad una disoccupazione sempre in crescendo e che determinano difficoltà e disagi nelle famiglie dei lavoratori. Questo è il quadro tracciato dal segretario generale della CGL di Ragusa Peppe Scifo ieri nell'ambito del direttivo provinciale della CGL che ha anche approvato il bilancio di previsione 2017. Siamo stati tra la gente ha detto Scifo con iniziative di piazza volantinaggi ed assemblee parlando poi del referendum costituzionale aggiunto il segretario il 5 dicembre siamo tornati al paese reale la vittoria del no è un risultato che ci incoraggia aggiunto il segretario per affrontare la sfida sui nostri referendum già ammessi dalla corte di Cassazione lo scorso 9 dicembre manca solo il via libera della consulta prevista per il prossimo 11 gennaio e poi inizia la grande battaglia per il sindacato ma soprattutto per tutti i lavoratori giovani e il paese dati agghiaccianti poi per quanto riguarda la povertà e la disoccupazione dal dossier dell'Inps i dati sull'occupazione hanno avuto un crollo soprattutto per quanto riguarda i contratti di lavoro a tempo indeterminato i contratti di lavoro stagionali e l'aumento sproporzionato dei voucher il dato secondo la CGL certifica il fallimento del Jobs Act e la crescente frammentazione e precarizzazione del mondo del lavoro le assunzioni a tempo indeterminato vanno a meno 32% le assunzioni a termine 4,9% le assunzioni in apprendistato il 25% ed infine le assunzioni stagionali il meno 7% poi i dati stat hanno evidenziato la sofferenza delle famiglie italiane scivolate sotto la soglia di povertà pari a 4.598.000 nel 2017 poi la CGL sarà impegnata nella vertenza Colacem dove un piano di ristrutturazione a livello nazionale mette a rischio decine di lavoratori colpendo lo stabilimento di Pozzallo ed ancora la vertenza dei lavoratori del Consorzio di Bonifica cercando di porre fine alla gestione irresponsabile del Consorzio da parte dei vertici locali ha detto la CGL per quanto riguarda il 2016 il sindacato chiude con l'approvazione della legge contro il caporalato e lo sfruttamento mentre sul fronte delle infrastrutture continuerà l'impegno a fianco dei lavoratori impegnati nei cantieri dell'autostrada Siracusa Ragusa Gela in particolare per i lotti della Rosolini Modica Si è parlato della settimana corta nelle scuole di Scicli questa mattina nel corso di un incontro con i dirigenti scolastici e l'assessore al ramo Caterina Riccotti al termine dell'incontro è stato deciso di far saltare dal primo febbraio la fase di sperimentazione e di far ripartire la settimana corta dal prossimo anno scolastico 2017-2018 questa decisione compete alle singole istituzioni scolastiche che nella loro autonomia dovranno provvedere ad organizzare l'orario scolastico nel piano triennale dell'offerta formativa con le delibere del collegio dei docenti e di istituto e adesso ci fermiamo c'è la pubblicità a tra poco Rieccoci in studio aiutare i pazienti oncologici e i loro parenti con un supporto fisico e psicologico lo fa da tempo Medicare Onlus che ieri sera proprio per raccogliere fondi a sostegno ha promosso una serata di spettacolo con tantissimi volti noti siciliani tra cui Salvo La Rosa Gilberto Idonia e Giuseppe Castiglia Divertimento Divertimento non si parte d'Italia ma nella mia Catania era importante che fossi presente e ringrazio e ringrazio innanzitutto Salvo La Rosa che assieme a me è stato voglio dire l'immagine di questa manifestazione e grazie a lui e forse anche alla mia presenza questa sera abbiamo un tutto esaurito che ci riempie di gioia non è la prima volta che facciamo qualcosa per Medicare Onlus e certamente non sarà neanche l'ultima quando c'è bisogno noi ci siamo sempre con grande gioia con grande disponibilità fa parte del nostro lavoro io ringrazio tutti i colleghi e gli amici che sono con me sul palco ma soprattutto ringrazio il pubblico che ha subito riempito di amore di affetto di gioia il Teatro Ambasciatori quindi grazie al Gilberti Doni a Giuseppe Castiglia a Violinistin Ginza a Marianna Cappellani a Bruno Torrisi e a tutti quelli che insomma hanno detto di sì a questo invito è un momento particolare il momento delle feste di Natale quindi probabilmente siamo tutti più buoni e allora l'occasione è ottima per farlo ci siamo io i violinisti Salvo la Rosa Gilberto Idonia e siamo contenti di farlo perché ci serve anche un po' da buona azione personale ci fa stare anche meglio il ricavato delle donazioni dei partecipanti e degli sponsor andrà a finanziare l'associazione Medicare Onlus che si occupa dei malati oncologici offrendo loro gratuitamente degli alloggi il servizio di trasporto per eseguire le terapie e altri servizi di sostegno psicologico e di dieta alimentari grazie a tutti gli artisti che sono venuti qui oggi gratuitamente la gratuità è una parte fondamentale della solidarietà non si può fare solidarietà se non c'è gratuità ci vuole un grande cuore su una Catania che c'è anche per fare del bene agli altri e adesso un servizio del nostro ufficio commerciale che parla dell'open day alla scuola media Giovanni XXIII Open day alla scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII di Modica l'evento che ha fatto registrare un'ampia adesione da parte dei genitori interessati ha visto proporre da parte del corpo docente laboratori per gli allunni delle quinte che dovranno iscriversi arte, musica ma anche matematica italiano, inglese e tanto altro ancora proposto sotto forma di attività ludica La nostra scuola garantisce innanzitutto il successo formativo degli allunni che è l'obiettivo fondamentale io l'ho constato con mano quotidianamente innanzitutto perché mi occupo di orientamento per cui ho rapporti con le scuole superiori e vado a monitorare i nostri allunni nei primi anni proprio di scuola superiore e mi rendo conto che il successo formativo è garantito nella maggior parte dei casi l'abbandono scolastico la cosiddetta dispersione è minima nei primi anni delle scuole superiori per cui consiglio vivamente a tutti i genitori di iscrivere i propri figli alla nostra scuola L'open day che si è tenuto nel presso di via Sorda San Piero ex sede Genza l'ha rappresentato l'occasione per lo storico istituto modicano di mettere in mostra i locali nuovi a seguito del trasferimento conseguente all'attestato di inagibilità di uno dei due plessi della sede centrale un modo per sottolineare che l'istituto c'è esiste e non demorde nonostante le difficoltà quest'ultime non attribuibili alla dirigenza o all'istituto in sé in questi giorni si sta anzi lavorando per uscire definitivamente dal tunnel in cui si è incappati a settembre abbiamo cercato di lavorare bene e continueremo a farlo e forse anche nelle difficoltà dalle difficoltà che emergono poi le energie per poter andare avanti quello che è un punto di debolezza deve diventare un punto di forza anche per i nostri alunni gli alunni che hanno affrontato dei disagi mancabilmente in questo periodo ma che forse usciranno temprati da questa esperienza non possiamo dire alle famiglie che stiamo con i piedi solidissimi in un quadratino ma come diceva l'insegnante la professoressa lasagna forse a volte le difficoltà tecniche pratiche danno un coraggio più grande una spinta anche di orgoglio legittimo da parte di questo corpo docente più che da parte mia io non ho orgoglio io ho impegno e responsabilità ho dialogato finora in maniera molto costruttiva con l'amministrazione comunale sto aprendo altri livelli di confronto e sto cercando supporto perché questa scuola ha i numeri non solo per sopravvivere ma per vivere alla grande non ci sono altri servizi altre notizie concludiamo qui questa edizione di MTG grazie come sempre per averci seguito una buona serata arrivederci a domani grazie a tutti